hai scaricato le immagini e hai visto che è stata una persona del colore che è scesa col treno mi sembra alle 9 della sera e ha tirato un sasso di qui sia su questa di qui però non mi ha fatto niente perché mi sarebbe indata. Cioè qui l'ha presa a pugni? Lì ha tirato un sasso. Un sasso eccolo qua e poi si è divertita con quello. Divertita guardi che danno. Che ora era? Quando è stato questo? Non mi ricordo il giorno. Comunque è il treno del 9 e mi sta aiutando in dicembre se non ricordo male. Quindi questi giorni addietro insomma? Sì, bene una data. Questo è proprio una sassata è stata. Eh sì, una sassata. Più che una sassata, scusi il termine, io direi una cannonata. Eh beh sì, in effetti è qualcosa di molto pesante e poi questo è molto caro, costa parecchio. Eh infatti, quello del raffaello che è passato ha detto un dono del suo centello. Eh sì sì, così mi dicevano in Polferra oggi.